Ciao, come promesso nel video precedente, oggi ti voglio elencare qualche alternativa sana e naturale all'uso dello zucchero, così che tu possa avvicinarti gradualmente all'eliminazione di alimenti dolci della tua dieta, che sarebbe la cosa più bella che potresti fare come regalo a te stesso, ma mi rendo conto che un'abitudine conclamata all'uso di zucchero può non essere facile, così immediatamente è da sradicare, quindi bisogna andare per piccoli passi. Perché noi abbiamo voglia di zucchero? Lo zucchero lo abbiamo da sempre assunto, fin da quando siamo nati, anche grazie al latte materno, questo alimento caldo, dolce, che comunque attenuava il nostro stress anche da bambini, appagava questo senso di affetto che volevamo, è nato proprio per nutrire il bambino, per dargli delle sostanze utili all'organismo, ma che poi nel corso del tempo viene, nel corso dell'infanzia, sostituito con dei surrogati che lo vogliono imitare. Per cui nella nostra vita noi cresciamo sempre con questa idea dello zucchero, del bianco, del dolce, che ci portiamo appunto dall'allattamento, per chi ha avuto la fortuna di essere stato allattato, peggio per chi non ce l'ha avuta, quindi dal latte in polvere dell'industria farmaceutica, comunque questo senso di dolce che ci accompagna poi per tutta la vita. Sono veramente rari i casi di persone che non amano lo zucchero, perché lo zucchero appunto è un alimento che creando dipendenza va a lavorare su questo equilibrio delle nostre sostanze del benessere, nel nostro cervello, all'aumento o diminuzione di serotonina e altri ormoni molto ma molto importanti che possono influire sul nostro stato d'animo, per cui noi lo zucchero, per noi è impossibile pensare che non possiamo farne a meno. In realtà ci sono delle ultime alternative sul mercato, proprio nel mercato anche del biologico, allo zucchero, ma pian piano usando queste alternative, quindi utilizzandole magari anche in cucina, facendo dei dolci, un pochino con un gusto dolce un po' attenuato anche per i nostri figli o comunque per i nostri cari, li abitueremo a un gusto molto più attenuato del dolce, per cui gradualmente poi ci si potrà abituare al fatto di non consumarlo più. Allora la prima alternativa allo zucchero che trovi facilmente proprio anche sul mercato come offerta è la stevia. Ne avrai sentito sicuramente parlare da un po' di anni, non è presente soltanto nel mercato del biologico ma anche nei supermercati normali, facendo sempre un po' attenzione alle fonti da cui proviene. Comunque la stevia viene proprio da una pianta, la pianta della stevia. Quella stevia si estrae da una pianta che si chiama appunto stevia rebaudiana, una pianta che veniva utilizzata anche in passato per scopi medici. La stevia ha un enorme potere dolcificante, cento volte più dolcificante dello zucchero, però proprio le calorie della stevia sono zero, quindi la puoi utilizzare tranquillamente sia per i dolci da forno sia per le preparazioni dolci a crudo. Cambia leggermente un po' il gusto dell'alimento, bisogna capire un attimo a seconda delle marche di stevia, quella che ti piace di più, ma ti posso assicurare che ha tantissime caratteristiche positive. Innanzitutto non alza i livelli di glicemia, anzi è proprio utile alle persone che hanno questa tendenza ai diabetici, oppure per esempio abbassa il colesterolo, aiuta tantissimo ad abbassare il colesterolo nel sangue. Non è utilizzato dal nostro corpo, va direttamente nel circolo dell'intestino, per cui la stevia è assolutamente un prodotto naturale, un prodotto innocuo che puoi utilizzare tranquillamente per dolcificare. Un altro dolcificante che puoi utilizzare al posto dello zucchero è l'eritritolo. L'eritritolo è una sostanza, uno zucchero che viene estratto da sostanze vegetali, a volte è estratto, molto spesso è estratto in maniera industriale, quindi cerca di trovare un eritritolo di buona qualità, anche questo non altera i livelli di glicemia nel sangue. È molto dolcificante, ha un potere dolcificante grande, molto grande, viene assorbito direttamente nell'intestino, ma viene excreto dai reni, quindi non passa nel nostro metabolismo, non si va ad accumulare nelle nostre scorte, nemmeno arriva al fegato, per cui è uno zucchero altamente sicuro, sia appunto per il consumo da crudo che da cotto. Un altro zucchero di cui sicuramente avrai sentito nominare è l'oxilitolo. L'oxilitolo viene estratto dalla pianta di betulla o da molti vegetali, così come l'eritritolo, e fa parte della famiglia dei polialcoli, quindi così come l'eritritolo sicuramente non dovrai accedere nel consumo, però sappi che l'oxilitolo, a parte che è prodotto proprio naturalmente dal nostro organismo, non è uno zucchero, non è un dolcificante che acidifica il corpo, non altera né la digestione né il nostro metabolismo e ha tra l'altro il beneficio, infatti viene utilizzata anche nell'industria dei produttori di chewing gum o di caramelle, ha la caratteristica di essere uno zucchero che non fa venire la carie, che anzi aiuta tantissimo la densità ossea, sembra così da studi, per cui non produce la carie o depauperazione delle ossa, quindi anche quello è uno zucchero molto molto adatto per sostituire lo zucchero bianco, lo zucchero di canna. L'ultimo sostituto dello zucchero di cui ti voglio parlare è sicuramente lo zucchero di cocco, lo zucchero di cocco viene ricavato proprio dalla palma da cocco ed è uno zucchero che si presenta visivamente molto simile allo zucchero di canna, quindi anche molto più accettato diciamo nell'uso comune per dolcificare per esempio delle bevande calde o fare dei dolci, è uno zucchero un po' più caro rispetto al normale ma estremamente naturale. È stato dimostrato che essere uno zucchero antiossidante quindi con un grandissimo fattore ORAC che è appunto la misura di antiossidanti presenti in un alimento. Contiene l'ulina, contiene tante fibre benefiche, quindi è lentamente assorbito diciamo dal nostro organismo. Di conseguenza avendo tantissimi enzimi, tantissime sostanze benefiche non ha un diretto, non alza la glicemia, non ha un diretto rapporto diciamo con la produzione dell'insulina per esempio nel nostro organismo, per cui è un'ottima alternativa all'uso di zucchero. Quindi adesso te li ricapitolo, abbiamo detto la stevia, l'eritritolo, l'oxilitolo e lo zucchero di cocco. Tu ti sorprenderai del fatto che non ho elencato il fruttosio, lo sciroppo di agave o lo sciroppo d'acero, questo perché ne parleremo magari in un altro video. Questi non sono degli zuccheri benefici per il nostro organismo, anzi hanno un carico glicemico enorme, molto pesante, addirittura il fruttosio è molto più dannoso nel nostro organismo dello zucchero stesso, quindi dello zucchero bianco comune. Ci sono appunto queste alternative che potresti considerare per sostituire lo zucchero nella tua alimentazione fin quando non deciderai di eliminare il sapore dolce o quantomeno del sapore estremamente dolce della tua dieta e ti posso assicurare che tutto il tuo organismo ne beneficerà e starai molto ma molto meglio. Ne beneficerà il tuo sistema nervoso, la tua forza, la tua energia, il tuo aspetto perché no, quindi la struttura proprio della tua pelle e dei tuoi capelli e questo lo potrai scoprire soltanto se ci proverai. Ti saluto e ci vediamo nel prossimo video dove ti parlerò dell'infiammazione dell'organismo. Ciao!